E' pari a 23 milioni di euro la somma che la regione Abruzzo ha destinato ai quattro capoluoghi di provincia per lo sviluppo urbano sostenibile. Di questa somma fino a 5 milioni sono destinati a ciascun capoluogo mentre i restanti 3 milioni saranno assegnati in ragione delle specificità delle funzioni urbane e della consistenza demografica sia dell'ambito cittadino che di quello provinciale. Da finanziare azioni che mirino alla trasformazione delle città in realtà urbane smart e sostenibili attraverso la diffusione della connettività a banda ultralarga, la realizzazione di sistemi intelligenti per la mobilità, la riduzione dell'impatto ambientale connesso alla mobilità e la qualificazione dell'offerta turistico-culturale attraverso un più esteso uso delle ITC. E con noi attraverso queste misure abbiamo deciso di aiutare le quattro città capoluogo d'Abruzzo e torneremo sopra per aiutare ulteriormente anche la città capoluogo di regione che è l'Aquila perché vogliamo per loro la modernizzazione dei vettori che consentono il trasporto collettivo, l'informatizzazione riferita alle informazioni concernenti i mezzi di trasporto collettivo, vogliamo la valorizzazione dei beni culturali e vogliamo che si insedi anche una cultura della visione strategica della evoluzione delle città, una visione che consenta per esempio le alleanze, la capacità di sviluppare le prossimità territoriali. Che ti punta sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città, l'Aquila intende realizzare una mobilità sostenibile che colleghi tutte le frazioni, le new town e i nuovi quartieri del progetto case con il centro storico. Anche Pescara punta sulla mobilità sostenibile mediante la creazione di corridoi ecosostenibili, Teramo ambisce a recuperare alcuni edifici storici per insediarvi nuove funzioni socioculturali e migliorarne il livello di accessibilità. Noi saremo implacabili nel controllo, eviteremo che accada con questa misura quello che è accaduto per più quinquenni all'Arit dove sono passate molte risorse e poco si è rinvenuto a favore della regione. Le amministrazioni comunali dovranno essere dei tori che portano avanti con velocità la spesa pubblica di qualità e la capacità della rendicondazione. Non potranno dormire, non potranno messicanizzarsi col sombrero.